Ciao carissimi, di recente il presidente Zelensky, presidente ucraino, ha sentito il cancelliere della Germania Scholz e le ha detto di essere grato per i tank, per i carri armati e per i sistemi Patriot che la Germania ha dichiarato di voler fornire all'Ucraina. L'Ansa riporta questa notizia, l'Ansa cita Zelensky, ho avuto un colloquio telefonico con il calciriere tedesco Olaf Scholz, l'ho ringraziato per l'importante pacchetto di aiuti per la difesa che comprende decine di veicoli Marder e il sistema missilistico Patriot. Abbiamo discusso di come sviluppare ulteriormente la cooperazione per rafforzare l'esercito ucraino. Questa notizia la volevo commentare in un modo analitico, sviluppare un'analisi. Quando noi parliamo degli aiuti che l'Ucraina riceve dal blocco occidentale, dal sistema atlantista e quando noi parliamo della nostra visione, della nostra propaganda di ciò che succede in Ucraina, perché a noi giustamente dal giorno in cui è cominciata l'invasione russa o l'operazione militare russa, ognuno la chiama in base a quelle che sono le proprie visioni, per me si tratta sia di una che di altra cosa, io sono una persona obiettiva, io so che quando uno stivale militare calpesta la terra di un paese indipendente è un'invasione, non si può chiamare in nessun altro modo. Allo stesso tempo io sono consapevole del fatto che in Ucraina la guerra civile sta andando avanti dal 2014 ad oggi, il governo centrale che tra l'altro supporta il nazismo, rappresenta anche il nazismo, sta massacrando la propria popolazione russofana del Donbass, ha massacrato i propri oppositori e quindi c'era un focolaio di una guerra nella quale la Russia ha intervenuto usando questo focolaio anche come la scusa, perché se noi vogliamo parlare degli interessi giustamente anche di Vladimir Putin, del suo atteggiamento geopolitico, giustamente anche criticando, perché qualsiasi politico, qualsiasi azione deve essere criticata, deve essere messa in dubbio e discussa e quando noi discutiamo su quello che fa Vladimir Putin l'unica cosa è chiara, che la parte ucraina si è sforzata per dare a Putin tutto il sostegno necessario per fornirgli una perfetta motivazione per l'invasione, perché tutti gli anni precedenti quando si poteva arrivare a un accordo di pace, quando c'erano gli accordi di pace di Minsk 1 e di Minsk 2, si poteva raggiungere un equilibrio e trovare una nuova forma di coesistenza geopolitica. In tutti questi anni l'Ucraina e chi stava dietro all'Ucraina, ovvero Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna e altri paesi nato, non hanno fatto altro che aumentare i venti della guerra, rafforzare la provocazione nei confronti dei russi e alla fine ovviamente abbiamo avuto ciò che abbiamo visto il 24 febbraio dell'anno scorso, ovvero un intervento militare brutale della Russia, brutale ma comunque contenuto perché non è stata una vera e propria guerra d'invasione a larga scala come li abbiamo visti ad esempio effettuati dagli Stati Uniti d'America nello stesso Iraq ad esempio, cioè i russi sono andati coi piedi di piombo forse perché hanno creduto che l'Occidente si siederà a tavola a trattare anche questa stranissima finta presa di Kiev, avvicinamento a Kiev che non era logico, secondo me si trattava semplicemente di un bluff dei russi che aspettavano reazione dalla parte occidentale, aspettavano che l'Occidente si metterà con loro a tavola dei negoziati invece così non è avvenuto e loro sono trovati coinvolti in una guerra vera e propria molto lunga, alla quale comunque erano pronti perché ascoltando analisti russi Vladimir Putin questa guerra l'ha progettata tranquillamente fino a 2035 per cui se credere a quello che scrivono e quello che dicono loro, se credere ai numeri che loro condividono i russi possono tranquillamente fare questa guerra in questi termini, con queste forze, con queste dinamiche molto lenti, insomma senza fare grandi movimenti sul terreno, loro possono andare avanti così fino a 2035 perché a loro soprattutto conviene a livello geopolitico di fare questo scambio di minacce con l'Occidente, trasformare l'Ucraina in una zona dove si scontra con la macchina militare occidentale, mentre sul piano economico si cambia totalmente il posizionamento dei poteri internazionali. Arrivando quindi a commentare questa notizia di ulteriori pacchetti di armi, di armamenti che l'Occidente fornisce all'Ucraina, noi possiamo dedurre soprattutto una cosa e qua dobbiamo essere chiari, sinceri e obiettivi. L'Ucraina, il paese che secondo la nostra narrazione occidentale, secondo i nostri propagandisti, io li chiamo propagandisti perché noi viviamo nell'epoca delle propagande, c'è la propaganda russa, c'è propaganda occidentale, c'è propaganda ucraina, siamo in mezzo alle propagande e il problema è che proprio mancano le voci obiettive. Ecco, secondo la propaganda occidentale l'Ucraina starebbe vincendo, la Russia ha un esercito totalmente demoralizzato, distrutto, utilizzano gli armamenti vecchi, leggi ogni notizia, sembra che domani gli ucraini prenderanno il Cremlino, è un qualcosa di fantascientifico ovviamente, ma allo stesso tempo arrivano le notizie del continuo fornimento delle armi, dei mezzi all'Ucraina e qua mi domando, cari amici, ma secondo voi un paese che sta andando avanti, che sta vincendo e sta sconfiggendo un amico così debole come la Russia, ha veramente bisogno di tutto quel enorme pacchetto di aiuti militari che l'Occidente le sta fornendo? Guardate che in un anno l'Ucraina ha ricevuto un'enorme quantità di armi, di munizioni, di mezzi, di soldi anche e nonostante tutto non riesce a prendere nessun tipo di iniziativa sul campo. Due volte quando l'Ucraina è stata qua in Occidente portata sul piedistallo come un vincitore di battaglie, erano due volte quando i russi hanno effettuato una ritirata tattica per evitare di scontrarsi in una situazione che avrebbe portato l'esercito russo a enormi perdite, i russi hanno preferito di ritirare le loro forze da Kherson e da Kharkiv, dalle zone di Kharkiv e da Kherson e tutte e due volte giustamente il nostro impianto mediatico occidentale ha parlato di grande vittoria dell'Ucraina. Sicuramente si è trattato di un fatto positivo per gli ucraini perché vuol dire che sono stati liberati territori dove loro hanno potuto insediare subito con il loro esercito dove loro sono riusciti a riprendere in parte ciò che è loro e sicuramente un fatto positivo per gli ucraini. Però se guardare sul piano strategico non si tratta di tutta questa grandissima vittoria dell'esercito ucraino, si tratta di in primis ritirata tattica dei russi che poi è stata sfruttata da propaganda nostra occidentale come un palese strumento propagandistico, come un palese tematica propagandistica che ci ha rappresentato questa riterata tattica come una grande sconfitta dell'esercito russo. E poi stranamente mi domando ma perché questa sconfitta non è andata avanti? Perché invece loro dopo essersi posizionati dove vogliono, dove hanno preferito, sono ancora lì, continuano a stare lì e anzi fanno i danni. Quindi amici quando noi leggiamo le notizie del genere che il presidente Zelensky ringrazia il cancelliere Scholz per armamenti forniti, noi dobbiamo capire una cosa, siamo in fase di una terribile brutale guerra che è alimentata dai falchi sia da una parte che dall'altra ma soprattutto dai falchi occidentali, da chi guadagna con la guerra, da chi con questa guerra farà e sta facendo e farà ancora un sacco di soldi e le notizie del genere dimostrano solo una cosa, che l'Ucraina è in difficoltà, è ancora in difficoltà, non sta vincendo. Quindi io non lo dico per favoriggiare i russi, non mi importa niente della Russia e di ciò che è la strategia russa, io cerco di capirlo, di analizzarlo, condivido con voi le informazioni in maniera obiettiva, ma quello che voglio dire è che noi dobbiamo smettere di riempirsi di quel finto entusiasmo che ci condividono i nostri media e certi nostri politici che sono interessati di mantenere la guerra in quel paese martoriato. L'Ucraina non sta vincendo la guerra, l'Ucraina è in grave difficoltà e se vincerà questa guerra non sarà domani e non si sa se vincerà, secondo me no, perché è molto difficile per un paese come Ucraina riprendere quei territori che sono stati già occupati, ma soprattutto è molto difficile affrontare un paese come la Russia, ma numericamente è impossibile, anche se l'Ucraina ormai sul territorio non è presente solo l'Ucraina, anzi, lì sul territorio contro l'esercito russo è schierato tutto l'Occidente, tutta la Nato, con le armi, con tecnologie, con i servizi segreti, con tutto quello che è legato anche ai finanziamenti, a tutto il sistema finanziario e nonostante tutto comunque i russi stanno procedendo in maniera ancora non troppo pesante, cioè non sono come americani che hanno spianato in poche settimane l'intero paese quando hanno bombardato Iraq, i bombardamenti a tappeto in Ucraina non abbiamo ancora visti, bombardamenti che vengono effettuati e vengono effettuati utilizzando i droni leggeri che sono modificazioni dei Shahid iracheni che sono Geran 2 e questi colpiscono principalmente le infrastrutture legate all'impianto energetico, cioè noi non abbiamo visto veramente spianare interi quartieri come è successo ad esempio a Baghdad, non abbiamo visto i missili intercontinentali che in grande quantità sono precipitati sulla capitale dell'Ucraina Kiev radendo al suolo totalmente interi quartieri e seppellendo centinaia di migliaia di esseri umani sotto le macerie come è successo ad esempio in Iraq. Quindi stiamo parlando di una guerra che sarà sicuramente lunga dove l'Ucraina non sta vincendo e il fatto che l'Occidente continua a fornire ulteriori armi all'Ucraina dimostra proprio la difficoltà che ha l'Ucraina nell'affrontare i russi perché loro hanno bisogno sempre più armi, sempre più uomini, sempre più finanziamenti. In effetti continuano a chiedere questo. Poi qua possiamo aggiungere anche il fatto che in Ucraina c'è una certa corruzione, le armi che fornisce l'Occidente all'Ucraina finiscono anche sul mercato nero, di questo ormai parlano i leader degli stati come ad esempio il leader di Nigeria che continua a battere allarme e dichiarare a tutto il mondo ormai chiede aiuto perché il gruppo terroristico Boko Haram che è nell'Africa subsahariana sta commettendo gli attentati terroristici e tiene in paura tutta la regione ormai è armato con sistemi anticarro, sistemi missilistici provenienti dall'Ucraina. Anche molti terroristi di Boko Haram sono stati in Ucraina, hanno fatto lì qualche mese di guerra, sono tornati addestrati, hanno ricevuto ulteriori sostegni economici e continuano adesso ad applicare il terrorismo in Africa. Per questo motivo ovviamente noi dobbiamo essere coerenti nel dichiarare quello che sta succedendo sulla guerra in guerra tra Russia e Ucraina. Tra Russia io direi è la Nato perché ormai l'Ucraina è soltanto un terreno di scontro, un paese che si è reso disponibile a organizzare la guerra sul proprio territorio grazie appunto ai politici corrotti che ci sono lì, ai rappresentanti che non pensano al futuro del popolo ucraino ma pensano soltanto al proprio benessere, ai propri portafogli. Quindi questa notizia, l'ennesima notizia del fornimento delle armi all'Ucraina è soltanto l'ennesimo esempio che l'Ucraina sul campo ha difficoltà di affrontare la Russia, ha bisogno sempre di armi, ha bisogno di uomini, ha bisogno di materiale, altrimenti non ce la faranno e ormai sappiamo che quando arrivano i mezzi non sono i militari ucraini a guidare questi mezzi, lo faranno i mercenari della Nato perché addestrare in 448 un equipaggio per utilizzare una macchina, un blendato occidentale ci vuole tempo, ci vogliono mesi e loro devono essere poi sul campo operativo, devono essere anche capaci di utilizzare questo mese, non è così facile dare un blindato alle truppe e questi cominciano subito ad applicarlo nella strategia, non è così, non funziona così, servono anni di addestramenti in realtà, per questo motivo cari amici quando voi leggete le notizie che Occidente manda all'Ucraina un tot di mezzi, vuol dire che con questi mezzi arrivano anche specialisti militari, li chiamano consiglieri, li chiamano come vogliono, ma tanto abbiamo visto, i russi anche dichiarato, hanno dichiarato diverse volte che ad esempio gli obici francesi sono asserviti dai francesi, ci sono militari francesi che usano, utilizzano questi obici, ovviamente sono pagati dai sistemi della Nato, dai sistemi privati, perché lì in mezzo ci sono anche le organizzazioni militari private, dalla parte russa c'è Wagner, dalla parte della Nato c'è una serie di queste organizzazioni che tranquillamente applicano le proprie regole, tranquillamente hanno integrato il proprio lavoro all'interno del lavoro dell'esercito ucraino e quindi è normale vedere che quando dall'Occidente arrivano certi sistemi di artilleria o mezzi militari, all'interno di questo pacchetto prevedono anche fornimento dei specialisti, per cui se Germania manda un tot di carri, state tranquille che ci saranno anche un tot di soldati tedeschi, militari tedeschi, che in qualche modo o nell'altro verranno integrati nella guerra e si troveranno a combattere contro i russi come accadeva negli anni 40, quando l'Europa occidentale, sostenendo il nazismo icleriano, combatteva contro l'Unione Sovietica contro il comunismo guidato da Josef Stalin, quindi noi siamo più o meno sulla stessa dinamica storica, anche se ovviamente sono cambiati equilibri, sono cambiati i tempi, sono cambiate tecnologie, cambiato tutto, ma se vogliamo fare un ignorante, perdonatemi questo termine, ma in questo caso è così, è un semplice e ignorante paragone storico che non bisogna mai fare, ma noi lo facciamo così per fare una visione totale della storia e del presente. Ecco, si può dire che l'Occidente di nuovo sta andando con un'onda nazista contro quello che era l'Unione Sovietica e quello che oggi la Russia è di Vladimir Putin e questa è la realtà dei fatti. Quindi attenzione alle notizie, cerchiamo di interpretarle in maniera profonda, cerchiamo di fare le analisi che vanno oltre alle semplici dichiarazioni che fanno i politici, che fanno i nostri giornalisti. Grazie per essere stati qui con me, iscrivetevi sul mio canale, attivate il campanello così vi arrivano i messaggi quando io carico i miei nuovi video. Vi mando un abbraccio, statemi bene.